buonasera e benvenuti a questa edizione flash di occhio alla notizia edizione del sabato apriamo con la cronaca perché la polizia di fano ha denunciato il titolare di 59 anni di un supermercato che si trova nel centro storico per aver venduto ad una ragazza minorenne due bottiglie di super alcolici vodka che una quattordicenne insieme ad altre due coetane aveva scelto poi di consumare nella stessa sera nella toilet di un pub del lungomare al riparo da occhi indiscreti quattro bicchieri un mix tra alcol e drink energetico che una volta ingerito in pochissimi minuti le hanno fatto perdere i sensi nonostante nel frattempo fosse uscita in strada per prendere una boccata d'aria nel tentativo di riprendersi così ha raccontato l'accaduto il dirigente del commissariato di fano stefano seretti una storia che poteva portare delle conseguenze veramente irreparabili nei confronti di questa quattordicenne appena quattordicenne appena compiuti si erano organizzate quattro ragazzine tutte quattordicenni per passare una serata all'insegna del diciamo dell'euforia dello sballo si erano procurate queste due bottiglie di vodka a buon mercato vodka pura che fortunatamente per due delle quattro ragazzine è stato impossibile assumere per via dell'odore veramente molto forte del sapore molto forte molto acre e questo però non ha evitato almeno una di queste quattro ragazzine di assumere almeno quattro bicchieri che allungati insieme è una nota bevanda energizzante ha prodotto immediatamente degli effetti veramente delle conseguenze fisiche molto molto gravi è svenuta immediatamente è crollata a terra è stata fortunatamente portata immediatamente al pronto soccorso e le cure del caso l'hanno veramente salvata le nostre indagini hanno permesso di appurare nell'immediatezza la responsabilità a carico di un esercente di un supermercato del centro storico di Fano che aveva venduto a una 14enne non alla stessa che poi ha accusato il malore le due bottiglie di vodka e questo è un episodio sicuramente grave perché deve farci in modo che siamo noi in grado di sensibilizzare tutta l'opinione pubblica sulla gravità della vendita e della somministrazione di alcolici e superalcolici ai minori e minorenni. La polizia di Urbino ha arrestato un giovane italiano di 21 anni disoccupato e residente Sant'Angelo Invado con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti e aggressione a pubblico ufficiale. Il giovane era stato notato da alcuni agenti in servizio nella città ducale mentre era in compagnia di altre tre persone e mentre stava estraendo dallo zaino qualcosa da consegnare. Quando i poliziotti in Borghese lo hanno fermato lui si è divincolato con violenza ed è scappato per le vie del centro ma è stato rintracciato poco dopo e negli slip gli sono stati trovati 11 involucri contenenti 10 grammi di cocaina. Il 21enne è stato arrestato e rimesso in libertà con l'obbligo di firma in commissariato. L'attività che ha portato all'arresto di un giovane ventenne residente a Sant'Angelo Invado si inserisce in quelli che sono i controlli legati ai cosiddetti giovedi notte dove praticamente un'attività di controllo effettuata all'interno di una nelle vicinanze di un locale ha portato a verificare un'attività di spaccio di cocaina ai danni di altri tre giovani e questo ha portato successivamente al controllo a un tentativo di fuga messo in atto dal ragazzo che è stato poi inseguito per le vie del centro storico e successivamente rintracciato. Addosso aveva oltre alla doccia di sé spacciata aveva di cocaina, aveva altre 12 dosi inserite all'interno degli indumenti. La Yamaha ha annunciato il rinnovo di Valentino Rossi per altre due stagioni alla vigilia del Gran Premio del Qatar, gara d'apertura del Mondiale 2016 della MotoGP. Il team giapponese ha ufficializzato la conferma del campione pesarese anche per le stagioni 2017 e 2018. C'erano tante persone questa mattina in piazza del popolo a Pesaro per manifestare il proprio dissenso contro la chiusura del CRAS, ovvero il centro recupero animali selvatici e soprattutto dei suoi operatori che dai diversi anni con passione ed edizione totale svolgono un importante lavoro di recupero degli animali trovati feriti o sequestrati. Le organizzazioni sindacali di categoria CGL e Will, insieme alle lavoratrici e lavoratori del servizio mensa dello stabilimento Saipem di Fano, hanno deciso di proclamare lo stato d'agitazione e due giornate di sciopero nei giorni di martedì 22 marzo e mercoledì 30 marzo. Nelle stesse giornate è stato organizzato anche il presidio davanti ai cancelli della Saipem, dalle 8 alle 15 in via Tognolo a Fano. La protesta, scrivono i sindacati, nasce a causa delle continue richieste e pressioni da parte della Compass Group di ridurre l'orario di lavoro agli addetti al servizio mensa nello stabilimento di Fano per far fronte ad una presunta riduzione dei pasti. A questo si aggiunge il rifiuto da parte dell'azienda di avviare un confronto serio e costruttivo con i sindacati dei lavoratori. Auguri papà no ci rinna, è lo slogan utilizzato in uno striscione firmato con il logo di Forza Nuova affisso questa mattina da alcuni militanti in via Roma a Fano, su una balaustra del ponte sul canale Albani. Il movimento di destra rivendica con un breve comunicato stampa l'azione, siamo giunti al punto, si legge nella nota, in cui anche affermare cose ovvie come fare gli auguri per la festa dei papà diventa un atto rivoluzionario contro la dilegante follia gender. È ufficiale il grande tennis con il quarto di finale della Coppa Davis tra Italia e Argentina, in programma dal 15 al 17 di luglio, si giocherà alla Circolo Tennis Barato di Pesaro. Ad annunciare la scelta della Federazione Italiana Tennis è stato il sindaco Matteo Ricci, le altre due città candidate erano Napoli e Torino. Chiudiamo con il calcio, semplicemente per ricordarvi che domani l'Alma Juventus Fano affronterà in trasferta la Fermana, come sempre ci saremo anche noi per le riprese e la telecronaca integrale, ve la mostreremo e la trasmetteremo lunedì sera dopo il telegiornale delle 20 e 30. Per questa edizione Flash invece è tutto, grazie per averci seguito e a voi tutti l'augurio di un buon fine settimana.